Si fa sempre più concreta l'ipotesi di una competizione tra animali per la morte dell'orso Bruno Marsicano avvenuta lo scorso sabato all'interno della foresta regionale del Demanio, Chiarano-Sparvera, sul territorio comunale di Scanno, nei pressi dell'area Picnic. Il primo responso dell'esame necroscopico effettuato nell'instituto zooprofilattico di Teramo conferma quanto già venuto fuori nel corso del primo esame radiologico che aveva escluso l'uccisione con colpi d'arma da fuoco. Tuttavia, dal Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise attendono risposte ufficiali dall'IZS prima di pronunciarsi. Nei giorni scorsi, i nuclei cinofili antiveleno del parco avevano perlustrato la zona dove è stata trovata la carcassa dell'animale alla ricerca di eventuali esche avvelenate. Nel corso della bonifica non erano emersi elementi in tal senso. Per questo la pista più accreditata resta quella dell'uccisione causata da un altro esemplare di orso Bruno Marsicano. Sulla carcassa dell'orso, infatti, sono state rinvenute ferite e segni di colluttazione che fanno pensare a uno scontro con un altro animale. I carabinieri forestali di Sulmone e personale del parco hanno inoltre rinvenuto ciuffi di pelo proprio sul luogo dove sarà trovata la carcassa che sono stati sottoposti alle dovute analisi.